ciao a tutti amici di youtube in questo video vediamo come aggiungere un'animazione personalizzata in windows specialmente l'8 e l'8.1 ma se cercate altri trucchi suggerimenti personalizzazioni per questo sistema vi invito a seguire la mia playlist a riguardo detto ciò iniziamo windows 8 e 8.1 permettono di personalizzare la propria start screen ma non per quanto riguarda l'animazione delle tiles che specifica quindi windows non fornisce un modo semplice per modificare la velocità o lo stile dell'animazione tuttavia grazie al nostro regedit possiamo creare un valore per abilitare e controllare l'animazione inoltre questo trucco funziona anche per le animazioni dell'immagine utente il nome utente e il testo iniziale quello presente sul lato sinistro in alto della start screen seguite il percorso lasciate in descrizione creiamo una chiave di word a 32 bit e rinotematilo in launcher session login animation on show il valore lo modifichiamo in 1 ora possiamo chiudere l'editor ed ammirare la nuova animazione che era nascosta c'è anche un programmino chiamato start screen animations tweaker che facilita tutto ciò senza che voi modifichiate le chiavi di registro naturalmente lascerò questo software in descrizione per rimanere sempre aggiornato sul canale ti consiglio di iscriverti ed attivare le notifiche grazie a tutti Grazie.